Bentornati sul canale Thomas Ticciati Cinema, bentornati a tutti gli iscritti e ai non iscritti mi raccomando cliccate qui sotto se volete rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno volta a volta. Oggi parliamo di un documentario musicale uscito nel 2004, il famoso documentario di Metallica chiamato Some Kind of Monsters per la regia di Berlinger e Sinovsky, un documentario musicale che è diventato anno dopo anno uno dei più famosi documentari musicali del nuovo millennio a cui poi negli anni si è accostato anche The Story of Hanville come contraltare di questo documentario di Metallica. Comunque Some Kind of Monsters rimane un faro che illumina una band importantissima per lo sviluppo naturalmente del heavy metal mondiale in un periodo veramente nero. Andiamo con ordine a scoprire di cosa parla questo Some Kind of Monsters. Dopo l'album di cover del 98, Garage Incorporation, la band vuole tornare a scrivere un nuovo album. L'album poi uscirà nel 2003, sarà il pessimo Saint Anger e il documentario parlerà di tutto ciò che avviene quindi dal 2000 al 2004 più o meno. Un periodo come vi dicevo negativissimo per la band. Un periodo in che il documentario affronta molto bene. Ovviamente quando si parla di un documentario bisogna sempre ricordarsi che diciamo il cinema verità, quello che ci viene portato ai nostri occhi è sempre mediato attraverso l'uso della camera. L'utilizzo che i due cineasti fanno della telecamera e l'utilizzo di certe riprese naturalmente sono filtrate attraverso l'occhio di quello che i due cineasti vogliono far vedere al pubblico e che naturalmente i Metallica hanno dato il permesso di far vedere al pubblico. Infatti i primi problemi che sorgono sono proprio questa incompatibilità tra James Hetfield e la presenza di una troupe, di un microfono e quindi già qui fa vedere questo dualismo difficile da combaciare tra una band sempre alla luce del sole, sempre sulla bocca di tutti, sempre in tour e degli aspetti segreti della vita di studio, nella vita di scrittura e nella vita comunque di composizione di un album che si rivelerà essere difficilissimo. Il documentario affronta tanti aspetti di questo lungo periodo e di tanti anni di silenzio della band è un documentario che affronta un momento iniziale di mancanza totale di ispirazione i primi riff che la band tenta di mettere insieme assieme al produttore Bob Rock che in quel caso è anche bassista nel periodo 2000-2003 più o meno quando Jason Newsted viene mandato via è una band che non trova assolutamente ispirazione in niente i riff che escono fuori dalla chitarra di Hetfield e di Hammett sono totalmente senza alcun capo e ne coda dopo poco il documentario affronta un altro argomento molto ben più grave dell'ispirazione ma naturalmente collegata ad essa ed è l'alcolismo di James Hetfield questo alcolismo che lo porterà lontano dalla band per 11 mesi andrà in una clinica, tornerà pieno di dubbi, pieno di paure, pieno di incertezze ma sicuramente più pulito e pronto ad affrontare quella che sarà poi la seconda carriera metallica quella che tutt'oggi fa riempire stadi, palazzetti e venues per questa nuova incarnazione della band la band è seguita quasi giornalmente dallo psicologo Phil, un personaggio che in questo documentario è molto centrale molto centrale perché tenta di tenere dei fili tra i personaggi della band personaggio che poi comunque alla fine verrà comunque messo in un angolo da una decisione di Hetfield e Ulrich perché secondo loro la sua presenza era legata comunque a un periodo della band che loro volevano in tutti i modi di giustamente tenere indietro, eliminare per poi diventare una nuova incarnazione, diventare un'evoluzione di quello che erano stati nel passato quando James Hetfield è in clinica c'è un momento intenso del documentario la band si mette in discussione, la band ha paura di non avere più un futuro e a quel momento venne chiamato addirittura Dave Mustaine di Megadeth, ex Metallica per un confronto veramente commovente con Lars, un personaggio che ha sofferto moltissimo questo abbandono di Metallica e Lars è veramente commosso durante questo dialogo tra i due un bel pezzo di storia del metal che si confronta poi naturalmente i due e i Metallica con i Megadeth tenteranno comunque un accordo di pace durante il Big Four di qualche anno dopo il personaggio di Bob Rock che fa il bassistan diciamo nella registrazione di St. Anger è un personaggio abbastanza squallido se devo dire un personaggio che anche nei momenti in cui si parla di Jason Newsted lo tenta di declassare con parole, con atteggiamenti e poi c'è anche il momento interessante in cui Lars Ulrich e Kirk Hammett vanno a un concerto della nuova band di Jason Newsted, ovvero gli Ecobrain e Jason Newsted non incontra i due ex amici di Metallica e lascia l'incontro di Metallica ai suoi componenti della band quindi ci sono delle situazioni veramente al limite è una band tesissima, una band che avrebbe rischiato di esplodere da un momento all'altro una band che nonostante tutto è andata avanti però quello che avviene nel documentario e è avvenuto nella realtà ovviamente è una cosa paradossale ovvero di solito nei momenti di tensione nei momenti in cui le band tentano di mettere insieme cose nuove tentano di ritornare su binari diciamo puliti dopo periodi neri, periodi di droga, periodi di alcol possono avvenire due cose di solito o questa tensione dà vita ad una creatività estrema oppure dà vita alla spazzatura c'è chi vede in St. Anger una creatività estrema e forse dentro quei riff, dentro quelle canzoni lunghe dentro quelle sonorità cacofoniche c'è una creatività ma naturalmente non è una creatività positiva per quanto riguarda i miei gusti St. Anger è uno dei peggiori album della storia del rock degli ultimi 15-20 anni una cosa insostenibile per il sottoscritto e quindi questa creatività che doveva uscire fuori esce fuori in un verso sbagliato ma forse è quella creatività che poi ha dato la band il modo di esistere durante tutti questi anni se avessero fatto il dischino fatto su misura per il pubblico probabilmente dopo il tour si sarebbero sciolti non avrebbero retto a questa situazione di impasse Some Kind of Monster affronta anche il momento dell'audizione del nuovo bassista ovviamente Robert Trujillo verrà scelto come bassista ma saranno anche provinati Twiggy Ramirez ex Marilyn Manson il bassista di Caius Per Perkin and the Corrosion of Conformity e altri personaggi della scena rock più che altro metal alternativa non si presentarono o non chiamarono loro questo non ho bene capito dei bassisti comunque prettamente heavy metal e questo è molto strano era un periodo che i Metallica tentavano in qualche modo di non apparire metal era già dai tempi di load e reload ma in questo Saint Anger si affronta anche un argomento importante nel documentario ovvero la non presenza di assoli nel disco c'è un colloquio tra la band e Kirk Emmett molto importante Kirk Emmett si arrabbia molto dicendo che questo loro nuovo modo di comporre dove non sarebbero stati nel quale non sarebbero stati presenti assoli di chitarra era un modo per andare dietro alle mode del momento da fine anni 90 per i primi anni 2000 i gruppi new metal crossover chiamatelo come bifari avevano completamente eliminato gli assoli di chitarra dai brani lo ritenevano un retaggio del vecchio stile dall'hard rock all'heavy metal e quindi metallica tentarono immediatamente di salire sopra questo carrozzone e questo fu uno degli errori più grandi a mio parere di Saint Anger anche se poi a conti fatti delle canzoni del genere brutte come erano se ci mettevi anche degli assoli secondo me venivano fuori delle cose ancora più obbrobiose però chiudiamo questa parentesi però il senso che voleva dire Emmett in questa discussione che esce fuori proprio prepotentemente in Some Kind of Monster e che la band tentava in qualche modo di salire su un carrozzone e purtroppo questo carrozzone è sempre con tre ruote invece che con quel quattro perché se da un lato ti vuoi accostare a delle nuove sonorità pseudo new metal chiamatelo, vi ripeto, come vi pare a voi non mi piace a volte utilizzare etichette troppo settarie allora non puoi utilizzare quei suoni che vengono scelti per Saint Anger dei suoni assolutamente inconcepibili sembra un budget dei ragazzini che vanno in sala prove a fare una take e via poi si scopre che Lars Ulrich vende i suoi quadri di Basquiat per 5 milioni di dollari e sembra che il budget per l'album sia di 100.000 dollari quindi ci sono tante cose che stridono in questo periodo di metallica e il pregio di Some Kind of Monster è quello proprio di mettere quasi alla berlina una band da rapporti sfilacciati una band che è al limite dello scioglimento al limite dell'esaurimento nervoso e al limite della sanità mentale e fisica come quella di James Hetfield una band che comunque ritrova se stessa in un periodo diciamo quando finisce la registrazione dell'album e Hetfield e la band vanno nel carcere di San Quintino a registrare il videoclip di Saint Anger la title track del video lì un pochino più di umanità esce fuori da James Hetfield nelle parole che lui rivolge ai carcerati perché fino allora quello che abbiamo visto nel documentario diciamo le prime ore e mezzo fa vedere veramente una band quasi fatta di automi di personaggi non molto stabili vi dicevo personaggi che hanno raggiunto un apice nella loro carriera e che difficilmente riescono a essere costanti nelle loro scelte, nelle loro composizioni e nei loro comunque nei loro rapporti con le varie persone che li circondano quindi diciamo questo periodo di Saint Anger è servito ai Metallica ad andare avanti sicuramente perché si vede tutt'oggi il successo che hanno tour dopo tour tuttavia quello che viene fuori dal documentario è assolutamente d'impatto nonostante proprio per questo è rimasto nella storia un documento importantissimo per documentare la vita di gruppo e la vita di studio di una band che si trovava per la prima volta dopo anni a scrivere e a comporre in un certo modo particolare dovevano scrivere i testi lì per lì non è che si riunivano dopo aver composto delle cose e poi confrontarle dovevano scrivere lì con Bob Rock in studio e quindi venivano fuori delle cose abbastanza raffazzonate l'utilizzo di Pro Tools il programma di montaggio audio dove si registravano le tracce dell'album è forse un altro protagonista del documentario sicuramente l'utilizzo estremo di questo Pro Tools ha rovinato Saint Anger e lo vediamo perfettamente come l'Arzuri che guarda questo computer come se fosse quasi un oracolo ma da questo oracolo non viene fuori nulla se lui poi utilizza e suona la batteria in quel modo pessimo in cui la suona per tutto il disco quindi se vi approcciate a Some Kind of Monster nelle sue fluviali due ore e venti sicuramente vi accostate a una tragedia umana più che a un racconto musicale una tragedia umana di tre persone poi diventate quattro che affrontano i vari argomenti della vita più che della musica in maniera abbastanza estrema quello che poi viene fuori naturalmente il prodotto musicale è ovviamente frutto di quel periodo soprattutto a livello lirico e a livello testuale Ettyville scrive cose abbastanza forti sulla vita sulle esperienze sull'essere sul cancellare errori del passato e via dicendo sarebbe utile vedere anche un documentario del genere sugli Iron Maiden proprio perché è notizia degli ultimi giorni che Bruce Dickinson ha fatto una dichiarazione del tipo i rapporti all'interno della band sono molto tesi detto una cosa del genere quindi sarebbe interessante che venisse fatto un focus anche su loro diverso da quello del Flight 666 di qualche anno fa ma qualcosa di più intimo e più anche drammatico forse toglierebbe un velo di mito a una band come gli Iron Maiden in Metallica questo velo lo hanno tolto ci sono anche messi in mutande per questo si sono inudati davanti al pubblico davanti allo spettatore e da una parte sono rinati da una parte ovviamente non torneranno più qui in Metallica del pre-Saint Hanger però diciamo questa cura Ludovico ha dato modo poi alla band di non fermarsi mai durante gli anni e il documentario di Bellinger e Sinowski è proprio riuscito a scavare un fossato tra i due periodi di Metallica spero che comunque andate a cercare questo Some Kind of Monster perché comunque è un vero documento musicale da non sottovalutare nella storia del mondo filmico musicale del nuovo millennio un saluto a tutti da Thomas che